Il Bloody Mary è secondo me il drink più difficile in assoluto da fare e tra poco capiremo perché, perché la preparazione è molto macchinosa ed equilibrarlo è molto complesso. Se hai fretta di prepararlo, schippa in avanti, ma ti consiglio di restare qua con me perché prima si parte dallo studio, dal ragionamento sulle materie prime per farlo al meglio, quindi prenditi un po' di tempo perché questo drink è tutt'altro che banale e non basta buttare le cose all'interno di un bicchiere. A questo proposito ti dico che io e il mio team abbiamo sviluppato un webinar sul Bloody Mary Hackerare il Bloody Mary che sarà disponibile da fine dicembre all'interno dell'area pro per gli iscritti Platinum, del mio sito ovviamente, e da fine gennaio in vendita singolo sul sito Drink Factory. Fatta questa premessa, poi vi racconterò cosa c'è dentro il webinar, andiamo a parlare della sua versione classica, una preparazione che potete fare tutti, sia a casa ma anche al bar, sia al bar ma anche a casa se sei un amatore. Vodka, il Bloody Mary è un drink a base vodka. In molte ricette vedete 45 ml di vodka, secondo me è un grande no. Di vodka nel Bloody Mary secondo me ce ne vanno circa 30 ml. Abbiamo notato infatti che nel Bloody Mary con tanta vodka viene fuori un retrogusto amaro e non è dovuto ovviamente alla vodka che non è amara, ma l'insieme di tutti gli ingredienti con quel quantitativo di vodka tira fuori un retrogusto amaro. Con 30 ml invece questo retrogusto amaro non si percepisce. Succo di pomodoro, potete comprarlo al supermercato, farvelo con un estrattore, per quanto è un pochino più complesso, farlo liscio, senza aria all'interno, senza grumi e gradevole. In commercio ce ne sono tanti buoni, noi usiamo Natis, è un'azienda con cui collaboriamo da anni, e fa un pomodoro già perfetto. Non usate una passata, troppo densa, troppo corposa, potreste valutare di farlo un 50 passata, un 50 succo se lo volete più corposo, ma a me non fa impazzire, io sono un fan del succo. Wurster sauce è una salsa di aceto e acciughe, non adatta quindi ai vegani o ai vegetariani, potete sostituirla in quel caso con un po' di salsa di soia, un po' di salsa di soia e di aceto, o una salsa vegana similare, gusto acido, molto complessa a livello aromatico. Questo è il vero segletto del Bloody Mary. Questa quantità, circa 10 ml, va a togliere un po' quella sensazione di pomodoro che smaga e rende il drink molto più bevibile. Attenzione quindi poi alla quantità di succo di limone fresco che andate a mettere all'interno, vedete che qui l'ho ridotto drasticamente, io solitamente ne metto un bar spoon, serve a dare quella punta di freschezza. Dobbiamo ovviamente andarlo a diminuire se aumentiamo la Wurster, che tutti gli italiani chiamano Worchester, stavo per chiamare così, e probabilmente la chiamerò così più avanti. Quindi se mettete più salsa, mettete meno limone, altrimenti viene una cosa imbevibile. Poi inizia la sfilta dei quanto basta. Quanto basta tabasco per dare parte piccante. Esistono tanti tipi di tabasco, vi dico la verità, per le quantità che se ne mettono in questo drink non è che ci sia una grande differenza. Quindi se mettete anche il tabasco, quello barbecue, quello affumicato, non è che si senta tanto. Sale e pepe, per andare a equilibrare appunto un po' di speziatura e la sapidità. Il sale e il pepe e questi ultimi ingredienti per me sono la vera nemesi. Io solitamente mangio un pochino sciapo rispetto ad altre persone, non troppo piccante, quindi per me equilibrare il Bloody Mary è un problema, perché quando è equilibrato per me è per gli altri sciapo, quando per gli altri è equilibrato per me è troppo piccante e troppo salato. Quindi è questa la vera difficoltà di fare il Bloody Mary, cercare di fare una cosa che possa accontentare quante più persone possibile. Quindi chiedete sempre ai vostri clienti o agli amici se lo fate in casa come bevono questo drink e quanto sono abituati al piccante, allo speziato e al salato. Poi mentre lo facciamo parliamo di un'altra cosa importante che è il Bloody Mary Mix, che secondo me è la svolta per fare questo drink. Quindi, prima cosa, prendiamo un tumbler alto, ci mettiamo del ghiaccio, perché sarà fondamentale imitare quella che è la diluizione secondaria. Ghiaccio e anche un pochino di acqua, così intanto lui si va a raffreddare. Prepariamo lo shaker, non perché andremo a shakerare il Bloody Mary, ma perché lo prepareremo con un velocissimo throwing. Io non sono un fan della tecnica throwing nel Bloody Mary, però è un giusto compromesso. Ossigena un po', raffredda il giusto senza diluire tanto, perché il Bloody Mary diluito è anacquato, uguale anacquato, quindi non è un granché. Partiamo. Si versa come prima cosa il pomodoro. Io ne metto 100 ml. Ne metto 100 ml anche perché ho ridotto un po' la vodka, quindi ho un po' più spazio anche nel bicchiere. Dopo il pomodoro procedete in quest'ordine. La salsa, ne mettiamo prima 5 ml, assaggiamo e poi eventualmente aggiungiamo un altro po'. Ovviamente io so che con questo pomodoro ne devo circa mettere 10 ml, però se vi trovate di fronte a cambiare pomodoro o utilizzate altri pomodori, ricordatevi di bilanciarlo diversamente. Viene fuori una nota dolce anche molto molto gradevole quando unite questi due ingredienti quasi di miele. super, perfetto. Messo la Worcester e il pomodoro, possiamo iniziare a mettere il sale, il pepe e il tabasco. Partiamo con un paio di pizzichi di sale, del pepe, che mi è caduto, scusate, un paio di prese di pepe, anche di più, ne ho messe 4 perché trita poco questa cosa qua, e un paio di dash, di colpi di tabasco. Adesso, prendete il bar spoon, sciogliete tutto, e una volta sciolto tutto, andate ad assaggiare. Metterei la vodka. Ah, scusate, mi incontro la regia, che infatti mancava un pochino, che manca il limone. Mettiamo un bar spoon di limone, e sentiamo un po' a che punto siamo. Da quel poco di freschezza in più, vi dico anche la verità ragazzi, se mettete più Worcester potreste anche pensare di non metterlo, però non ho detto niente. A questo punto, prima di andare eventualmente a correggere, perché siamo già vicini all'equilibrio che ci piace, mettiamo la vodka, perché una volta messo questo ingrediente, andiamo ovviamente a diluire la parte, la speziatura, però andiamo ad aggiungere anche alcol, quindi potrebbe scendere un po' alcune sensazioni, ma altre potrebbero venire fuori in maniera imprevista. Quindi mettiamo la vodka e andiamo ad assaggiare. Ci vuole, secondo me, un filino più di tabasco, un filino in più di sale, un pizzichino, sto cercando sempre di equilibrarlo, pensando a come lo vorrebbero le persone, e andiamo a mettere qualche goccia in più di salsa. Misceliamo e assaggiamo. Perfetto. Allora, prima di andare a raffreddare e diluire, quindi a fare un po' di throwing, faccio un passo indietro e vi dico una cosa, è molto, molto importante nel Bloody Mary lavorare in pre-batch o quantomeno fare un Bloody Mary Mix. Pre-batch si mischia tutto al drink, Bloody Mary Mix invece si va a miscelare solo la parte analcolica, questo perché, se poi volete, potete anche farlo a base gin, quindi un red snapper, oppure magari mettere un po' di vodka e una qualche goccionina di mescal per dare una parte affubicata, poi si può ragionare sopra, quindi dipende cosa preferite. Secondo me è necessario lavorare in pre-mix o in pre-batch perché è impensabile che il pepe si senta bene e ci vuole tempo per amalgamare il sapore di questo drink, per fare in modo che vengano estratti bene, quindi per me tutta la vita si lavora in pre-mix. Fatelo qualche ore prima, lasciatelo lì riposare, anche in frigo se volete, si amaga molto meglio e il drink sarà fatto alla perfezione. C'è anche un altro, inoltre un altro vantaggio, cioè lavorativamente se dovete fare un Bloody Mary bene, ci mettete un quarto d'ora con tutta sta roba a trovare un equilibrio. Magari durante la serata avete assaggiato altri drink, mangiato qualcosa, la vostra bocca è un po' compromessa, non riuscite a imbroccarne una, ok? Verranno fuori dei Bloody Mary tutti sballati, quindi trovate il vostro equilibrio e poi eventualmente lo correggete solo un pochino prima del servizio. Lo prepariamo in throwing, ma potreste andarlo a preparare anche in steer o in build, non ci sono grossi problemi, facciamo un throwing rapido. Io non sono un fan di questa tecnica, ma in questo drink potrebbe avere un senso. non serve lanciare il drink da un chilometro, lo fate se siete bravi per fare un po' di scena, io qui rischio di fare un disastro cosmico, quindi per non dover rigirare il video un'altra volta lo faccio delicatamente, quindi procedete in questo modo. Fate 4-5 passaggi, un po' si ossigena il pomodoro, c'è una leggera diluizione e raffreddamento e nulla di più, perché ribadisco, se lo shakerate, eccetera, vi rirebbe un drink troppo diluito che farebbe schifo. Tiriamo via l'acqua e il ghiaccio, addirittura a me il Bloody Mary a volte piace consigliarlo a temperatura ambiente o addirittura a caldo. Tra l'altro sul sito c'è una ricetta di un Bloody Mary caldo ed è veramente, veramente eccezionale. Ovviamente lo si beve in quantitativi inferiori o magari come welcome drink. Stecca di ghiaccio per limitare la diluizione secondaria. Se non avete la stecca di ghiaccio, usate i cubetti, ma vi consiglio di partire da tutti gli altri ingredienti già freddi, quindi limitate un po' la diluizione primaria e avendo già tutto freddo, quindi anche quella secondaria. Decoriamo con un paio di ciuffi di sedano, potreste anche decorarlo con un pomodorino candito, un pomodorino al forno, eccetera. Non fate quella cosa da baristi americani di Instagram, fortunatamente in Italia non ce ne sono, ma in America sono questi creator che fanno il cocktail a casa solo per Instagram e poi sui Bloody Mary ci mettono vagoni di bacon e altre cose, ecco, veramente inguardabili e immangiabili soprattutto e questo potrebbe essere appunto un Bloody Mary. Mi sono scordato una cosa che aggiungo adesso, abbiamo utilizzato del sale, ma molto spesso leggete sale di sedano. Sono due cose alternative o che eventualmente potreste usare anche insieme. Il sale di sedano però nasce come un'alternativa al sale, non è altro che sedano essiccato, disidratato e polverizzato, quindi oltre a dare la tipica sensazione di sapidità di questo ingrediente, dà anche un pochino di sapore di sedano. Vedete che il colore è leggermente più scuro dei Bloody Mary a cui siete abituati e questo è proprio dovuto alla salsa Worcester che abbiamo messo e che rende il drink eccezionale. Per di salutarci due parole sul webinar, sarà disponibile da settembre per gli iscritti Platinum, da fine gennaio sul sito Dream Factory ripareremo di come hackerare il Bloody Mary, diverse tipologie di pomodoro, andiamo a analizzare succhi freschi e diverse tipologie di pomodoro, come trattarlo al meglio per farlo liscio, senza grumi, anche qualche abbinamento, andremo a vedere anche come eventualmente valutare l'utilizzo di una passata, ma soprattutto come trattare al meglio gli ingredienti per fare questo drink veramente sempre uguale e perfetto che i vostri clienti non si andranno a scordare facilmente. Io ti ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!